La città di Pescara ha finalmente un luogo istituzionale dedicato al contemporaneo. Albiani Art Space è il nuovo spazio di ricerca e sperimentazione all'interno dell'Aurum a cura di Lucia Zappagosta, che fino a novembre offrirà agli spettatori insoliti viaggi e sorprendenti scoperte verso le nuove tendenze dell'arte contemporanea. Per raggiungere lo spazio espositivo bisogna fare una suggestiva esperienza cinetica, un vero e proprio percorso di iniziazione attraversando il tunnel Albiani. Albiani Art Space partecipa questo sabato al progetto Save the Beauty, un evento nazionale in sinergia con altri 100 spazi espositivi dedicato a ricreare attenzione verso il brand cultura, che da sempre identifica l'Italia nel mondo. La mostra Contemporary Shop, inaugurata il 16 febbraio e visibile fino al 30 marzo, gioca ironicamente sul concetto di shop ideale, in cui gli artisti mettono in vendita le loro idee, ed intende restituire lo spaccato della vita contemporanea alla ricerca di un nuovo modello sostenibile. L'installazione Biobo, presentata dall'artista Yukuki per la mostra Contemporary Shop, sarà arricchita dal nuovo cartello Save the Beauty, che i visitatori potranno scegliere, tra gli altri già presenti, per inginocchiarsi al loro destino e farsi trovare pronti ad un incerto futuro, ma con stile. La cittadinanza è invitata sabato 23 marzo alle 18 a prendere parte a questa Primavera dell'arte, per salvare la bellezza del nostro paese.